Benvenuti a tutti ragazzi in questo nostro nuovo video. Dopo le vacanze torniamo a bomba con l'analisi del Golden Butterfly Portfolio. Questa strategia di investimento fa parte dei lesi portfolio. Tra i tanti lesi portfolio troviamo il famosissimo All Season di Ray Delio e il Permanent Portfolio di Harry Brown. L'obiettivo del Golden Butterfly far crescere e proteggere il proprio capitale qualsiasi cosa accada. Ricordiamo comunque che essendo un portafoglio cosiddetto pigro si costituisce anche con dei semplici ETF che riescono a funzionare molto meglio rispetto alle tante soluzioni avanzate proposte dall'industria finanziaria. La teoria alla base è quella di selezionare gli asset che si comportano particolarmente bene nelle quattro possibili condizioni economiche. In altre parole durante una crescita economica ci saranno le azioni che performeranno bene, durante una recessione ci sono le obbligazioni a breve termine a trascinare il portafoglio, durante periodi di inflazione ci sarà l'oro che sosterrà i rendimenti e durante periodi di deflazione le obbligazioni a lungo termine la faranno da padrone. Penserete che questo modello di portafoglio al giorno d'oggi con i tassi ai minimi storici e mercati azionari ai massimi non sia il massimo. In realtà il gol del butterfly ha funzionato egregiamente sia quando i tassi di interesse erano saliti vertiginosamente durante gli anni 70 sia quando l'oro ha perso l'80% del suo valore durante gli anni 80 e 90. Infine anche nel periodo tra il 2000 e il 2010 ovvero quando le azioni hanno restituito rendimenti pressoché nulli questo portafoglio regalava un rendimento di circa il 6% anno al netto dell'inflazione. Dopo questa brevese introduzione andiamo a guardare come è composto il golden butterfly. Da quello che possiamo vedere da questo grafico è costituito dal 40% in azioni, 40% in obbligazioni e 20% in commodities. La parte azionaria è suddivisa in 20% large cap e il 20% in small cap value. L'obbligazionario invece è suddiviso il 20% in long term e il 20% a breve termine. Per quanto riguarda invece le commodities il 20% è allocato nell'oro. Come detto in precedenza nonostante venga definito un portafoglio pigro è riuscito a restituire rendimenti importanti durante gli anni. Possiamo infatti notare che annualizzato a 10 anni ha restituito un 7,75% e addirittura sui 25 anni di rendimento quindi uno storico importantissimo abbiamo avuto un 8.17 annualizzato di rendimento. Giustamente il nostro portafoglio è interessante ma andiamo a confrontarlo su quello che è il benchmark di riferimento ovvero l'SP500. Il grafico in questione mostra il rendimento avuto dal 5 gennaio 2010 del nostro portafoglio confrontato col benchmark. Ovviamente il nostro portafoglio non è fatto per sovraperformare l'indice tant'è che a confronto i due guadagni sono completamente diversi. Il Golden Butterfly si ferma ad un 173,78% contro un rendimento del 312,80% dell'SP500. Quello che però possiamo andare a notare è come ci si arriva a questo risultato. Infatti questo è il grafico più importante del confronto tra i due portafogli. Un portafoglio 100% azionario è vero che genera più rendimento ma è anche vero che la volatilità è maggiore. Quello che possiamo notare infatti sono i forti cali avuti dal mercato azionario nel tempo contro invece delle oscillazioni più leggere addirittura la differenza più marcata la possiamo vedere nel crash avuto nel 2020. A marzo infatti il Golden Butterfly Portfolio perdeva il 13% contro un 33,92% dell'SP500. Altri esempi possono essere fatti anche durante i cali del 2018 dopo l'aumento dei tassi quando il nostro portafoglio perdeva il 7,97% mentre l'SP500 un quasi 20%. Stessa identica cosa tornando indietro nel tempo nel 2011 con un drawdown del nostro portafoglio del 4,37% contro un 19,39% dell'SP500. Infine in questa tabella andiamo a guardare quelli che sono stati più bruschi drawdown avuti dal portafoglio appunto dal periodo del 5 gennaio 2010 ad oggi. Troviamo in prima posizione il drawdown avuto nel 2020 per poi seguire tutti drawdown inferiori al 10%. A seguito di tutte queste premesse siamo andati a ricreare quello che è il Golden Butterfly Portfolio per valutare con mano quelle che erano state le performance degli anni passati. Quello che vedete infatti è il portafoglio simulato dal 19 febbraio 2015. Ad oggi avrebbe restituito un rendimento del 50,7% quindi un rendimento annualizzato del 7,26%. Qui guardiamo quelli che sono stati i gain realizzati nell'arco degli anni. Riprendiamo dal 2016 che chiude l'anno con un 10,32%, un anno in negativo che è il 2017 con un meno 4,23, un gain del 0,25 nel 2018 per poi arrivare ad un fantastico gain del 18,22% nel 2019, un 4,02% nel 2020, un 17,72% nel 2021 e ad oggi si trova a perdere rispetto all'anno ovviamente un 1,23%. Come potete vedere infatti gli asset sono stati ripartiti nella stessa identica maniera rispetto al Golden Butterfly ovvero un 40% in azionario, un 40% in obbligazionario e un 20% in commodity. Vi ringraziamo per essere stati con noi fino alla fine del video. Se il video ti è piaciuto ti invito a iscriverti al canale e a lasciare un bel mi piace. Per qualsiasi altra idea di investimento scrivici nei commenti e noi ti risponderemo. Alla prossima!